Allora, sono Michi Gallo e in questo vlog vi porto in una delle mie giornate qui in un college americano Bella Mi sono appena svegliato, infatti sono ancora in utente Sono le 5 di mattina Si parte Ok, allora adesso inizio già a farvi quello a fare A questo momento sono le 6.40 quasi, mi sono già sbarbato Adesso vado a vedere per farmi delle foto Buongiorno Buongiorno, com'è? Come ti stai? Tutto bene Tutto bene? Tutto bene Vedete, è abbastanza del brasiliano qua Adesso sono le 7, quasi le 7.10 Vado a fare colazione Sempre uovo Farmi una fonte di proteine, non so cosa sia in italiano E patate Ok, sono le 7.55 Io ho la prima lezione alle 8 Perfetto orario Ok, allora ho finito questa lezione Quindi a posto Che cosa fai? Non mi saluta più Ok, allora ho appena finito la prima lezione online di oggi Con la loro buca Bella Ottimo, allora ho appena finito Adesso vado a pranzare Appena ho preso a mangiare Sei lì c'è Lorenzo, mi manda a fanculo Allora qua erano circa le 2.55 E mi stavo dirigendo all'allenamento Che iniziavo alle 3 Ero in perfetto orario Forse rischiavo di arrivare a ritardo Però non aveva molta importanza L'unica particolarità è che Essendo infortunato alla caviglia Non posso fare Non potevo e non posso fare tuttora Esercizi particolari Che riguardano appunto le gambe La corsa eccetera Tranquillamente riesco comunque a fare Flessioni, addominali, plank Cose di questo tipo Però ovviamente quando si tratta di fare parte atletica Come in questo allenamento La corsa è una parte fondamentale Che vabbè non ho fatto Però dai Cioè Allora poi per il giorno dopo Dovevo consegnare un progetto Per la mia lezione di disegno Che non capisco perché porto Una lezione di disegno Quando studio psicologia Però successivamente Dovevo andare ad allenarmi Però questo lo lascio dire Al me del passato Visto che questa registrazione La sto facendo il giorno Prima di pubblicare il video Dico andare a fare pesi Sono le 6.55 In questo momento Bravo Mighi Ok eccome E adesso Cioè Iniziamo ad allenarci Sono appena finito di allenarmi Sono le 8.15 E torno a disegnare Che devo completare Quei cavoli di disegni Per domani Allora ho finito di disegnare Che era tipo L'una di mattina E Quindi sono semplicemente Una serie di timelapse In cui disegno Niente di particolare Seguitemi su Instagram Anche c'ho Instagram Nei prossimi video Continuerò a parlare Del college E degli americani Come vanno avanti Quindi Se ci avete sbatti Un bel like Iscrivetevi al canale E Grazie!